Signori bentornati in nuclear throne questo giochino del cazzo che mi sta distruggendo l'anima anche in webcam addirittura eh eh quanto sono bravo quanto merito i vostri like che vi voglio bere dunque questo gioco è un dito al culo incredibile non voglio più usare questo perché mi son rotto il cazzo voglio usare il pollo guardate come va a rallenti si mortacci vostra oh dai subito arma subito arma subito arma olle tantara tantana ma mori comunque in questo gioco noi dobbiamo andare a uccidere sti stronzi uccidere sempre 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 più ah ma prendiamo horror prendiamo horror dobbiamo per prendere horror non distruggere questi fregni sostanzialmente dobbiamo andare avanti dobbiamo andare avanti fino ad arrivare al trono nucleare lì mortacci tua e ovviamente sarà un escalation di stronzi sempre più forti situazioni improponibili e è davvero caotico quindi è figo è figo e mi sono molto molto ricreduto su quanto ma che è quella scatolina marevogliosa ok è buona o devi morire ma mori mori oh ma quanto te ci vuole per morire ok thank you you have a machine ce lo prendiamo lo shotgun si molto bene ma mi piace lo shotgun mi piace già l'ho detto che ci sta bene voi lo sapete perfettamente quanto quanto io sia ripetitivo quindi non sto a ripetervi ogni volta però il fatto che le armi bianche deflettono i proiettili che ci prendiamo? oddio ma nel secondo livello l'ho rotto il canister mi sa che l'ho rotto fa un coglione tutti qui a belli di casa l'ho fatto il buccate oh se nemeritato oh no oh no ma porca beccate questo aio aia a chi c'è qui ma ci ciancia faccio il cazzo morici ma mori schifo ho detto che devi morire no ma come non l'ha preso sparami eh sparami dai sparami sparami merda 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 ok 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 d'accordo torio la pippa odio odio profondamente Matteo Matteo io ti odio lo sai vero questo? si? ti odio ti odio ti odio ti odio adesso prendiamo questo così ve li faccio vedere allora questo qui l'avete capito c'è lo slow motion questo tizio ha un po' più di punti ferita e se non sbaglio parte con un sacco di munizioni e può sparare con entrambe i cazzetti bubbi cioè con entrambi i cosi senza switchare l'arma infatti come potete vedere ho un range di fuoco molto superiore abbiamo preso anche il martellozzo guardate eh vedi colpo e martello colpo e martello datemi un martello allora abbiamo detto che non dobbiamo distruggere quelli eh è molto utile questo ora che ci penso perché posso distruggere dai questo 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 è molto interessante posso fare così e sopravvivo non è male non è male non è male andiamo a prendere subito horror dai peccati questo no scusa era questo era questo era questo era questo no quest'altra me la prendo quindi no aspetta ok ho preso la pistolina e lo screwdriver purtroppo lo screw ovviamente visto che fende l'aria verticalmente davanti a noi anzi perpendicolarmente davanti a noi ah eccolo non l'ho ucciso non l'ho ucciso cioè non lo distruggo eh non defletterà i colpi però ci potrebbe servire per ehm prendere un'arma d'oro dove devo andare no devo distruggerlo per forza questo ma dai ma davvero porca puttana e come prendo horror maledetti maledetti ah è vero mi dimentico che posso sparare ma c'è mo olle andiamo quindi adesso signori ma pozza con i ragni no questo adesso c'è il bosh non so quale prendermi non so quale prendermi fanno tutti schifo ehmmmm faranno questo anche se effettivamente ma ce devi morì ce devi morì oh 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 là sono un coglianazzo eh sono un coglianazzo scusate oh 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 lo screwdriver non lo fa non lo fa non lo fa non lo fa quel lavoro non lo fa eh no ma pure.... ma qua sotto Ok Adesso Io sto sudando l'anima E ho un ventilatore puntato contro Fuori dalla finestra Affinché esso porti aria fresca Che non sembra arrivare Quindi adesso ne prendiamo il nostro crystal E si, continuerò a prendere crystal E ci facciamo il più in là Di dove riusciamo ad arrivare E lo facciamo seriamente Quindi bando alle ciance Niente più Qui squiglie Prendiamo quello, prendiamo quell'altro Oh, scludiamo subito E via Coatti Transolli Tra l'altro mi dicono che c'è una lore Dietro a questa cosa A me non mi ripancazza A me piace il gioco L'ho preso il livellino? No, accidenti E va bene, va bene, va bene, va bene Va bene così Giusto Ah, devo switchare in questo caso Mi dimentico che ho l'arma quella Cioè ho la protezione Ho preso il livellozzo Oh Eh, infatti Eccolo Sì, è davvero OP effettivamente È tipo l'unico personaggio Che ha questa super difesa Infatti è considerato super nabbo Ma visto che io sono super nabbo Non vedo perché non usarlo Ma mori, mori Mori l'arma di merda Ok Molto bene Che cos'era quello? Uh, lancia granatina è bello Anche se io muoio con lancia granata No No, no, no Fermati, fermati, fermati No, no, no Devi farmi passare Fammi passare Ok Ok, perfetto Dove sei finito? No, verme, dove sei? Eccolo Bim Signori Vermone, è esploso Espotaprimat La laser pistol No No No, non ci voglio credere Non ci voglio credere Dai Me lo ridai qui il coso, vero? No, non me l'ha ridato Ma porca la puttana Sto rosicando Sto davvero rosicando, eh Non è che sto rosicando poco C'è la laser pistol A questo livello Era davvero davvero buono Oh mio Dio No, il cattivone Oh mio Dio Sto sperando Sì, effettivamente Il cattivone di solito lo fa Devo stare attento a quel piccolo stronzo Uh, è morto Ok, ok, ok No, perché se io gli tiravo il lanciagranate Cioè, la granata addosso La granata poi feriva anche a me Uh, grande Grandissimo Bimbo Gigi Dunque Dunque, 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 dunque Dunque, 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 dunque Ah, mi nascondo Ho paura Dove sei ciccio? Vieni qui Prendite sta granatina, eh Ok Ce n'è un altro Uh, altri due Esplodi Bravissimo Bravissimo Vediamo che c'è qui dentro Aspetta, aspetta, aspetta Uh, che cos'è? La laser pistol Bello Bellissimo È qui? La laser pistol Ma vaffanculo, va Vabbè Aspetta, allora Facciamo così un attimo, eh Perché noi siamo Siamo delle persone molto serie Facciamo così Così E abbiamo preso Quindi Laser pistol E screwdriver Molto, molto buono Ok, no Laser rifle Non lo voglio Uh Più forte Più caghi Eh, no Più Oh Hit and drop Gli hit and drop Ci dovranno salvare la vita Prima o poi Lo faranno Perché adesso me l'hai data? Eh, bastarda di merda Oh, le Allora, siamo attenti Dopo, Lazzi Oh, Dio Io odio questo livello Perché questi qui fanno Tipo drift Tipo Oh, lì, che dà, Dio Oh, no C'è quello che li caga 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 Questi non danno No, peccato, eh Che paraculata Bella paraculata Te ne metto sulla pappa Quanti cazzo me le pare Ah, mori, 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 mori Ok Però non mi danno L'esperienza Giustamente, eh Per bilanciare Però sforte sto Scrutto Cioè, nel senso Ammazza tutti con un gol Dobbiamo stare attenti Stare attentissimi Ah, il ninja Il ninja che si nasconde No, non qui Perché questi sono Cadaveri Al nostro amico ninja Anzi, il nostro amico Nino ninja Che purtroppo Certe volte A causa della profondezza Del 2D Si nasconde E qua sotto Tu non lo vedi Cioè, quel cazzo Tu non lo vedi Dovete morire Bella la crossbow No, non la prendo No, lì c'erano delle cose No Better and Curacy Out Better and Curacy Ma che cazzo De upgrade Ce stanno Allora, cerchiamo subito Olè Cappottone immediato Ai cecchini ragazzi E qui si inizia bene Non lo nego Prendiamo subito questo Uccidiamo questi stronzi Oh Grandissimo Che è morto Con i suoi colpi I suoi stessi colpi Qui che c'è? Bullets Ok, questi Ce ne siamo liberati Guarda quanto Io li odio questi Li odio Li odio Ok Andiamo a cercare La macchina d'oro Oh Attenzione Dobbiamo fare Ok Di qua Non c'è Molto good Non dobbiamo farla esplodere La dobbiamo colpire con lo scru Eh Allora si stronza Aiuto il lasero Aiuto il lasero Eccoli Ecco il ninja Ecco il mio amico ninja Nanananananananana Eh ma Se esco qua Mi rompe il culo Vieni qui Ciccio Dai Affacciati Affacciati Dai Tra l'altro Loro hanno Molto più Raggio di me Ce la faccio Ce la faccio Ce la faccio Sì ce l'ho fatta Wow 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 Dunque Lì c'è un cecchino Lo facciamo subito fuori Ma dov'è la macchina d'oro? Machine gun? No 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 Per ora no Ma non c'è più la macchina d'oro Ma come? Ma avete cambiato le carte in tavola? Io vi odio Vi odio profondamente Aia 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 Fossi quella? Non mi sembra No Non è quella Guarda se muoio per il coso di fuoco Vabbè Non c'è Che ti vedo E si ingenge Morici Ok Vediamo Sono molto triste di questo Però non si prese Stire macchina d'oro Si vede che hanno aggiornato Ragazzotti Aiaiaiaiaiaiaiaiai Se faccio un figlio Dai Dai Vi ecce Vi ecce Ecco là C'è venuto Ma Mori Ninja di merda Oh Va preso Porco Io ti odio Non riesco a andare avanti Non riesco Sbloccati tutti Tra l'altro Questo mangia le pistole E' veloce Dai E' veloce Proviamo questo Uh Ma sembra Piante versus zombie Ehm Che fa col tasto destro Ah Intrappola Intrappola Interessante Mi sembra essere Gratis Vediamo un po' Tipo io faccio così E poi faccio così Oh Buono Buono Questo me lo ciappo Oh Ah è vero Adesso non c'ho più L'invelocibilità Adesso devo fare Tutto affidamento Sulla mia velocità Ma già sto Bori Porco cazzo Va bene Va molto bene Non riusciremo mai Andare avanti a questo gioco Io lo so Mai nella vita Tu devi morire Ma Parte n'affa Ok Wow Sì Super vitone Sì Alvaro vitali Ok Non ci sono riuscito A fare quello Che volevo fare Batte n'affa In bocca Mamma Ok Cazzo è tosto Con questo Cioè sì È veramente veloce È trozzo in culo Con questo gioco C'è da dire Allora Oh Sì Le uccisioni Rigenerano i punti feriti Ragazzi Questa È la meglio Di tutte Io L'ammazzo Oh Mio Dio Mi stanno scaracacchiando Addosso Ma guarda quanti Mi sa che mi tocca Mette questo Benveni 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 Ok Sono tanti Oh ma c'è quello stronzo Oh ma c'è pure il boss No Cazzo E dai No Così non vale Vediamo se funziona Con il boss Oh mio Dio Funziona È verissimo Ma morici Con tanta pace No Si è liberato Devi morirci Ok Ci sei morto Bravissimo Ciccio Non ti inculo Oh livello 3 Livello 3 Buono Buono Siamo allo stage 3 E siamo lì di livello 3 Adesso io vorrei No ma quelle cose sono buone No quello lì Non voglio ucciderlo Allora come sto messo a munizioni No sto messo bene Wow Che culo Ok Ok Andiamo Allora Più 4 HP max Che max Sarebbe massimo Però Per gli amici è max Oh no C'è C'è schifi d'orso E morici Cazzo c'era il ninja E che cos'è questa? Oh la pala La pala è molto molto buona La pala ha un buon range Buona Aia 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 Perché Becca Oh E va E mori Oh Aspetta Ma c'è un altro Che cagacicci Sì c'è un altro C'è un altro C'è un altro Porca la paletta Cazzozza Devi morirci Devi morirci Oh ok L'abbiamo eliminato Ma mori Dai regà Uh la plasma gun Che cazzo fa La plasma gun È un po' lenta Un po' niente No Lo sapete che vi dico Mi tengo il rifle Quindi fucile Che è questo? Sì fucile E Spadina No come si chiama Pistoletta laser Buono 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 Andiamo verso l'alto La musica di questo video Mi fa cacare banane Però vabbè Opinioni Lo smug Ah che co Ma mori Tu vedi un po' Mi fai schifo Mi fai schifo ragno Così ragno Cosa di merda Uh questo è buono Come strategia Verso sti omuncoli Signori Siamo di livello 4 Al quarto stage Attenzione Uh no Tutte cacatissime Uh Most it More speed A caso Ok No Vedi Vedi Non c'è sempre La maledetta bastarda Questa qui è quella d'oro Ragazzi Vaffancula A mamme Tassore Taffrat Allora Voi dovete tutti quanti morire Nel fuoco Dell'inferno Perché siete stronzi Cazzo Morite Sciocchi Stupidi Vennuti Che vale Più si va avanti nel gioco Più mostri ci stanno Più stronzi Hanno caratteristiche particolari E più Difficilmente Riesce a raggiungere L'esperienza Prima che svanisca Allora Vediamo un po' Che c'è La splinter pistol Sono dei dardi Io potrei andare Fino qua giù Ucciderne un paio Con quest'arma Per salvare le munizioni Vieni qui Vieni qui Bravo Sei morto E mi lascio Quell'uccellaccio Del malaugurio Quindi Andiamocela a prendere Che a me Non so perché Mi piace più sta roba Oddio Effettivamente Eh no 25 colpi Che cazzo Ci faccio Ragazzi Io mi sono trovato Tantissime volte Senza munizioni Allora Prendiamoci prima Il mestro Questo qui verde Che cazzo Mestro C'avete State male È il mestro Dele tartarughe ninja E andiamo avanti Ok abbiamo superato Il punto di prima Quasi Ho paura Ho paura Ok Questo ci volevamo Subito Al Cassius Questo è via Morici Ok Mamma mia Ragazzi Mischione incredibile Mischione incredibile Mamma mia Che cazzo sono Che cazzo sono Ritirata strategica Ovvio ti non so parlare Ok Ok Prendiamo Questa esperienza Che fa comodo Ragazzi Oh Un punto esperienza Ottimo Eh sì Un punto esperienza Un punto vita Come si chiama Un HP Ma quanti cazzo Allora Prendiamo qui Che c'è La plasma Bella ciccio Io mi inculo tutto Sta plasma Però Non so Non saprei Oh No 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 Arriva Arriva la polizia Addio Sì cazzo Ok Sono entrato nel Spero che non abbiano aggiornato Spero 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 che non abbiano aggiornato Guarda quanto corre Olè Ci prendiamo La corona rush Che ci è stata consigliata Porca la sozza Arriva la polizia Minchia È arrivata La pula Ragazzi Non sapete qual è il problema È che qui C'è Scusate se non parlo tanto C'è il boss Sperando che non si attivi subito Ok Non si è attivato? Levamo se sti stronzi da qua Andiamo a vedere Eccola là Si è attivato Mori 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 Male Devi morire Oh Sì cazzo Allontaniamoci Mamma mia E non riesco a capire Non riesco a capire che cosa Ti odio Ok Perché stronghat No No Sì 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 Oddio Questa potrebbe essere utile Ma chi se ne frega Lesser enemy HP Ci dai un attimo di respiro Gioco di merda Ce lo dai? Ti prego Ti preghissimo Allora Oh mio dio Allora Questo qui Che cos'è? Mi piace più quest'altro Mentre quest'altro Uh Ah è vero È il plasma cannone Di mia nonna Non è affatto male Contro questi mostri Ragazzi Che cos'è? Mamma mia Ragazzi Ma è bellissimo Il lancia fiamme Ma quanto dura? Oh Ma che cosa Stai a dire? No Ma qui stanno droppando Tutte le armi assurde Ma è bellissimo Sta mappa Ma perché è buia? Peccato Peccato Perché se no Sarebbe stata molto interessante Allora Io mi prendo la laser Questo è davvero figo Oh Ti levi? Oh Ti levi? Ammazza quanto Sono tosti questi Oh oh Vieni qua E andiamo 25 E mi devo tenere queste qui Perché a meno che qui Non esca Eh Eh Lo so però Cazzo Questa è figa Sono fighe tutte e due Però non me la posso Mi posso tenere un'arma E basta Che faccio? Che faccio? Che faccio? Mi prendo la lightning Questa qui è la laser pistol La lascio La lascio La lascio La lascio Sì Siamo andando davanti un pochino Zitti zitti Crociate le dita Fate corna Fate le corna Fate le corna Io mi rintano immediatamente Ok Mamma mia Si e ci dice bene Sono una pippa Perché non so ben come funziona Quest'arma Quel robot è tipo troppo veloce Oh Era sopravvissuto dammi qualcosa dammi qualcosa oh oh oddio ce la facciamo ce la facciamo andare ho molta paura due di questi oh meno male che siamo veloci ma mori non riesco a prenderlo cazzarola cazzo 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 devi stare calmo ma che è una coalizione via dammi ok mi sa che tocca fare questa tattica mordi e fuggi no no si sta avvicinando ma chi è che le hk di si si dannazione woohoo ma cazzo ma cazzissimo si che figata chi cazzo è quello babbo natale babbo natale devi morire te rompo il puerco oh no ne arriva un altro ne arriva un altro yuhu signori sono fomentato sono super fomentato no chi era che c'era scritto che cos'era quello fammelo vedere ti prego auto shotgun oddio sto troppo bene con quello ah kills over time energy weapon energy weapon more damage dovete stare tutti molto calmi avete capito oh 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 state quieti state quieti state quieti ma io non sto più usando il mio super potere oh mio dio ma smettete di sparare ok proviamo a cambiare strategia ok mamma mia sta arrivando a quel coso tra l'altro quello quando esplode ci fa un bucione di culo e daje e daje rega e daje e daje si 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 che cos'è questo il plasma gun beccate questa no io mi prendo la pistola del fulmine qua che è bellissima che cazzo è che sta ancora sparando di là ah fatemi vedere questo sapete che non lo so oddio un altro un altro un altro ok un po' di riposo un po' di riposo non lo so vabbè mi prendo questo ma morici e morici no 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 cazzarola si si cazzo si cazzo no mi ha preso mi ha preso mi li da qualche putto ferita mamma mia ragazzi è un pandemonio l'ho presa in faccia quella quella lì no 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 si 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 cazzo mamma mia attenzione qui ci stanno i guardiani qui ci stanno i guardiani ci rompono il culo secondo me ci rompono il culo ma devi morirci subito oh mio dio che cazzo non c'ero mai arrivato a questo livello ma mi stanno trascinando non c'ero non c'ero